6 ore per firmare un contratto unilaterale con un pesante aggravio di spesa per i cittadini e con il ricatto di non eseguire la raccolta dei rifiuti la mattina successiva. Questa è in sintesi la situazione in cui si è trovato il comune di Lanciano, messo spaglia al muro dalla Ecolan, il consorzio che si occupa della raccolta dei rifiuti di cui fanno parte 53 comuni del Chietino e che di fatto ha confermato la rottura già in corso con la Ecolan dopo il mancato accesso ad alcuni atti. Il comune conferiva rifiuti indifferenziati per la biostabilizzazione, obbligatoria per legge, nella discarica pubblica Aciam di Avezzano, costo 140 euro a tonnellata. Ma dal 31 dicembre scorso la discarica non può più accogliere rifiuti perché satura, così come lo sono le altre due discariche pubbliche regionali. L'unica disponibile ad accogliere rifiuti che non possono valicare i confini regionali è quella privata di Casoni che fa capo all'imprenditore di Zio, lo stesso che detiene la maggioranza sia della Ecologica Sangro, la società che gestisce la discarica di Cerratina, che è della Rieco, la società che si occupa della raccolta dei rifiuti a Lanciano. Il costo per conferire gli indifferenziati a Casoni nel comune di Chieti sale a 154 euro a tonnellata, che tradotto in soldi significa un debito fuori bilancio a carico del comune di 700 mila euro annui. Nella stessa situazione si trovano ovviamente anche tutti gli altri comuni consortili. La Ecolan, che sapeva della situazione da mesi, ha tenuto un comportamento illegittimo che non tutela i soci, ha dichiarato il sindaco Pupillo. Per scongiurare l'emergenza rifiuti, Pupillo ha interessato sia il prefetto di Chieti che la regione, ottenendo una proroga per firmare il nuovo contratto fino al 31 gennaio. Intanto, quale presidente dell'Assemblea dei Comuni Soci, Pupillo ha dichiarato che convocherà un'assemblea straordinaria per sfiduciare il CDA della Ecolan. Io sono intenzionato a fare questo insieme ad altri sindaci con cui ci siamo sentiti, perché pensiamo che questo comportamento non sia corretto, non tuteli il territorio, non tuteli quei comuni che appartengono all'Ecolan e quindi che dovrebbero veramente sentirsi protetti e guidati in un discorso così complesso come lo smaltimento di rifiuti, che stiamo vivendo sempre nell'emergenza continua, non mai con una programmazione chiara, che sia armonizzata con quello che è il panorama regionale e provinciale. Quindi io mi attiverò affinché venga convocata un'assemblea straordinaria in cui si parli di questi problemi e chiederò la sfiducia del Consiglio di Amministrazione. L'incresciosa situazione ha riacceso riflettori sulla realizzazione dell'impianto di trattamento meccanico-biologico pubblico, progetto presentato nel 2009 dall'ex presidente del Consorzio di Fiuti di Cerratina per ridurre le tariffe a carico dei comuni, ma bocciato, e poi ripresentato dalla Ecolan con costi raddoppiati, ma senza la valutazione di impatto ambientale. In sostanza il progetto non è stato nemmeno esaminato. Sul TMB c'erano stati dei discorsi, quello di un costo eccessivo per una realtà che poi sta facendo la differenziata e quindi con la differenziata diminuisce l'indifferenziata e quindi l'utilizzo del TMB. Quindi si è discusso a lungo. Resta il fatto però che stamattina il Regione ha avuto la conferma che questa richiesta è stata presentata, però non è stata mai presentata il via. Cioè è come se io facessi una radiografia e non porto la risposta. L'esito di questa... Quindi è importante far capire che anche in questo l'Ecolan è mancata al suo impegno qualora avesse così la volontà di farlo. L'ha fatto in maniera parziale e ovviamente non corretta da un punto di vista amministrativo per cui in Regione aspettano ancora la via.